Losingavano le proprie vittime promettendo guadagni facili, ma in realtà gli unici a intascare il denaro, ben un milione di euro, erano loro. Cinque componenti di un sodalizio criminale tra imprenditori e professionisti che simulavano di poter piazzare all'estero case, alberghi e terreni. Il cui leader, neanche con il lockdown, ha smesso di godersi i fasti di una vita aggiata, abitando in una fantastica villa con piscina al vicino al mare, confiscata e acquisita al patrimonio dello Stato. Un blitz, quello della Guardia di Finanza coordinato dalla Procura è innescato dal GIP del Tribunale di Livorno, che ha emesso provvedimenti cautelari restrittivi, con l'arresto di quattro persone, due in carcere e due domiciliari, e una misura a carattere interdittivo con cui viene inibita l'attività professionale del quinto componente dell'associazione al delinquere, il titolare di un importante e noto studio notarile della città labronica. Questo è l'epilogo di una complessa indagine, operazione limited, diretta dalla Procura e condotta dal nucleo Polizia Economico-Finanziare della Guardia di Finanza di Livorno, che ha disarticolato il sodalizio dedito alla Commissione di truffe internazionali immobiliari e finanziari, ai danni di altri imprenditori e privati cittadini, che in pratica anticipavano decine di migliaia di euro in spese asseritamente necessarie a costituire società inglesi presso cui intermediare gli affari con facoltosi stranieri. Alla base, una serie di denunce querele presentate da 53 vittime delle condotte truffaldine che hanno messo in moto Procura e Fiamme Gialle, consentendo di individuare la responsabilità di 10 persone coinvolte in 28 episodi di truffa realizzate a Livorno e in altre 10 località toscane, da Firenze a Cascina, da Bibona a Portoferraio fino ad arrivare a Volterra e a Follonica. Per 5 dei 10 indagati è emerso il coinvolgimento attivo in una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla truffa, che operava attraverso schemi fraudolenti e diversificati. Per i 5 l'autorità giudiziaria ha disposto misure cautelari personali, in particolare per il notaio che invece si occupava di conferire i crismi di autorevolezza e serietà all'affare da concludere, è stato notificato il provvedimento di interdizione nella professione per 8 mesi.